Regioni, Accordio de Virmesa 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 esti saggeronata nazionale desu dialetto, festa desa lingua locale, l'ompia a sa dedresi. Inghizzate in su 2012 desa umpli, Unioni Nazionali Proloco d'Italia, tenissidea devai attinai scomunus italianus, asuba dei lingua desa de minoriasa o dialetto su presentisi in su territorio nazionale. In su mundo, d'ogni a quattordici disi, sparesi d'una lingua de minoria, pigen disindicunissa costumanzia sa storia e cultura. A declararau su presidente desa umpli, Claudio Nardocci, i sproloco, nantabodio sagittorio, che si indipesa in ogni parte del suo mundo, asuba de gustu venomenu, il lingua desa de su logo, vunti su chissacappia da disarregini nostasa. Samparo dei differenzi acculturali, si presentisi in su territorio italiano e europeo, poti da giudai, indipesa in una cultura del rispetto possa differenzia, con sa chissu mundo in treu, si mesura da o in di, fatu vato con a resurtu su drammaticu su. Sa lingua sarda rappresenta sa minoria brumana, dedotto su territorio italiano, comproso manco un milioni de voedantisi. In Sardinia, vunti vuodata sa tras tre linguasa e uno scanto dialettoso. Su sarda è classificato come una lingua a romanzo occidentali, ed è su 1997, grazie a sa lei regionali bintisesi, e lingua coo ufficiali in Sardinia parisassi italiano. Su sarda è stuna lingua, dunca sa, e non uno dialetto desi italiano. Su fatto che il nostro sardo tengausos è spressata vuoda in dialetto, non voli nai che sa nostra non sia una lingua, i differenzi sa intrati dialetto e lingua avunti da caratteri giuridi, coscetti. Uno dialetto affredda da locali e lingua, candu denido na leghi da decralittali e da amparada. Su sardo da denidi, è sa di deoi, da boneosa profetto, arroga ordendido a totuso. Igreziasa Ipsia in Milano Istituto Tecnico Galileo Verraris de Igreziasa ha da partecipare al suo spettacolo del Sexpo 2015 che in Milano ha da ospitare nel suo primo de' maio fin da il suo 31 del suo mese alla Damini 2015. Donai a papai a sovranetta, energia a vostra vita. Custo, su di titolo Shoperau, vostra parata universale, per umana del suo mondo. In noi su tema centrali, adesso sa cosa dei papai, in tutti i bisuri a suasa. S'Istituto Verraris de Igreziasa se in diseo della scuola alberghiera e, a ricendi su compito del suo ministerio delle istruzioni pubblica, boli l'ompia con sattopio del importo umano con uno scanto progetto su chiedeniti sintento devai greci e sattino con caistemas a dessa nutrizioni con di vai un'occasione di draballo ma può vuo e dai di alimentazioni, tecnologia e sostenibilità di buro. Nantinau a risero a Menjano in un attopio pubblico entro del Sistituto su dirigitori Massimo Moci e i matessi professori e studentesi. Uno sessento picciocchetto su quince punti in traus in sa comunità di Brumanna in San Rezza in noi un tappo di voedai con fedali di soro e sa carai a suba dei stemmi e sa supera uso possa parata universali. Bando necropoli del Santo Antiogo Sa necropoli punica dei spiriti gelosi del Santo Antiogo ad essi restaurata firmata e avvalorata su comuno da bucao su bando del Gara posto progetto sa dirigitura dei straballos e su concordo della sicurezza traballos gli antessi donato a uno professionista della Forasa. Possa arrangio di sarea del suo camposanto antica 2.500 annoso sa amministrazioni comunali ha firmato uno protocollo di intento su una fondazione del suo banco di Sardinia su d'antiposto del suo comune poi straballos di progettata essi del 90.000 euro sa fondazione in da posto 80.000 poi va sul restauro e avvalorata del sipogeo che sa gatta tendunare accanto al suo castello il sabaudo e 10.000 euro su chi manca l'antiposto sul suo comune igresia sa vesta di santo Antoni del suo foco in igresia in sagresia antica dedicata al suo santo oggi andacabai isa festoso costumengiano anti bene i giussumani e isanimalisi e costumeria e squattremeso sa missa vata dei preti Antoni Mura e cantata dei fielisi appustisi su santo ci adai si portavo in accompagnamento può accabai in sabrazzan antegresia in usata a lui su focadoni che su predi ad abeneigi s'ultima vaina da essi sa sparsinata dei subani sa gresiera dei sant'Antoni in antipregata di sud dei decisecluso e esti vata in architettura bizantina accanta ad una dei senna sa che può entrare in sa città di medievali a forza dei muri pisano appustisi di uno progetto del re qualificata vata uno scanto sannuoso a voi sa gresia si poti da bisittai e esti impreata dei fielisi del subicinato dei sant'Antoni può ascoltare sa missa in idita e vesta A presto